Grazie Presidente, onorevoli colleghi, governo. Vi vorrei raccontare una storia. Correva l'aprile 2019, quando l'allora Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Di Maio, perché ora ha scelto altro e non sappiamo se per promozione diretta o per limitare i danni, annunciava che la norma sui riders era finalmente pronta e che era riuscito a far sedere allo stesso tavolo tutti gli attori in campo per tutelare i lavoratori da un contratto dove, a suo dire, sono solo i datori di lavoro a dettare le condizioni economiche. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. E come dice il grande Vasco, siamo ancora qua. E già. E finalmente si arriva ad oggi, quando quest'Aula, con la conversione in legge del decreto, che dovrebbe, dico dovrebbe o meglio doveva, tutelare il lavoro e risolvere le crisi aziendali. È finita la primavera, è passata l'estate, è arrivato l'autunno. E tutti voi starete pensando un po' come nella favola di Pinocchio. E vissero tutti felici e contenti. E invece no! La verità è che sono tutti incazzati, tant'è che i riders sono sempre nelle piazze a protestare. Beh, ex ministro del lavoro Di Maio, nuovo ministro del lavoro Navigator Catalfo, vi siete resi conto che siete riusciti a scontentare tutti gli attori coinvolti, sia riders che gli attori di lavoro. E' evidente, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che continuate, imperterriti, a seguire la vostra strada con miopia e arroganza. Perché vedete, cari colleghi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, a differenza vostra, la Lega continuerà a sostenere che quello dei riders è un contratto che deve avere alla propria base la flessibilità. Perché la tutela dei lavoratori, per noi, parte proprio dall'ascolto delle loro esigenze. Proprio i dati di asso e dei liberi, che forse molti di voi nemmeno hanno guardato letto, danno un interessante spaccato del settore in parola. I riders impiegati nelle città, dove sono attivi i servizi della piattaforma, sono circa 20.000. L'età media dei riders è di 27 anni e il 75% è studente o un altro lavoro. I riders svolgono la propria prestazione in media a 15 ore la settimana e il 70% collabora con le piattaforme per meno di sei mesi. Inoltre, dicevano un guadagno medio orario compreso fra i 6 e i 16 euro lordi e le piattaforme garantiscono assicurazione contro gli infortuni e contro danni a terzi. E allora, se i dati non sono un'opinione, ciò che è stato è per approvare non è ciò che vogliono i lavoratori, non è ciò che vogliono i datori di lavoro, non è ciò che vogliono i sindacati. Insomma, è un po' come questo governo, non lo vuole proprio nessuno. Quella dei riders, infatti, è un'attività flessibile per sua stessa natura e non a caso viene svolta da persone che hanno bisogno proprio di tale flessibilità ed è per tale ragione che la Lega aveva proposto misure migliorative, tra cui una in particolare, eliminare il riferimento in misura prevalente, un'apertura della tutela assicurativa anche da parte di assicurazioni private, fermarestando la possibilità di scegliere un'assicurazione INAIL, l'introduzione di tutele aggiuntive in materia di sicurezza stradale e trasparenza sulla valutazione e retribuzione dei rider, e infine precisazioni per cui le tutele aggiuntive non costituiscono un indice di subordinazione. Tale modifiche, come da noi proposte, avrebbero permesso la chiusura di accordi in un settore ancora non rappresentato dalle organizzazioni sindacali e datoriali esistenti. E state tranquilli, una normativa simile esiste già in Francia, quindi anche l'Europa, con l'Europa, sareste stati a posto. I vostri amici non si sarebbero dovuti preoccupare di niente, perché, vedete, cari colleghi del Movimento 5 Stelle e del PD, probabilmente vi siete abituati troppo al palazzo e non avete ascoltato o letto quanti riders ci dicono da mesi, perché sono proprio i lavoratori, come già vi abbiamo ricordato, ad affermare che l'applicazione di questa legge, che vuole vietare il cottimo ed equiparare i riders a lavoratori subordinati, peggiora ulteriormente la loro situazione. Perché bisogna partire da un presupposto. Cottimo non è una parolaccia. Il cottimo è una delle forme di retribuzione previste dal nostro Codice Civile. E utilizzarlo in modo negativo, come fa da mesi una certa parte politica, non è né una soluzione né una forma rispettosa verso i lavoratori. Che ci sia un minimo garantito per gli stessi può andare bene, soprattutto in alcune fasce orarie, in cui, senza ricevere proposte di consegna, potrebbero altrimenti non avere alcuna entrata. Ma il cottimo resta per loro una garanzia di poter guadagnare. E introdurre un minimo orario prevalente, o addirittura esclusivo, rischia di diminuire i compensi, invece che aumentarli, facendo perdere il lavoro a molti di loro. Ma se volete, cari colleghi, parliamo anche di quanto fatto con l'emendamento legato al reddito di cittadinanza del senatore Calderoli, che avete dichiarato inammissibile per materia. Vorrei che i cittadini che ci stanno ascoltando sapessero infatti che il nostro emendamento aveva un fine, ben preciso, far sì che in caso di condanna, in via definitiva per certi reati, l'interessato non potesse richiedere in alcun modo l'erogazione del reddito di cittadinanza. Noi chiediamo a gran voce che un soggetto che abbia riportato una condanna non soltanto non può richiedere il reddito di cui ha già usufruito in passato, ma non può presentare nemmeno una prima richiesta. E se il reddito di cittadinanza ha un suo valore, è quello di aiutare le persone per bene in difficoltà economica, non condannati e brigatisti. E ripeto, non condannati e brigatisti, non chi ha ucciso uomini e donne dello Stato. E vorrei ricordare al senatore Faraone, che probabilmente in quel periodo era impegnato con le ONG e non ha seguito quota 100, che quota 100 non prevede l'erogazione della pensione a condannati, a brigatisti, a assassini, perché la Lega si è impegnata a far sì che non le ricevessero. E mi permetta, Presidente, di concludere con un cenno alle crisi aziendali, tema che da sempre i 5 Stelle sembrano avere a cuore. In Italia ci sono attualmente aperte circa 160 crisi aziendali. Una di queste è il famoso caso Whirlpool, che mi tocca anche da vicino, essendo coinvolta nella vicenda anche lo stabilimento di Siena. Anche in questa occasione, l'ex ministro del lavoro e dello sviluppo economico Di Maio dichiarava che era già pronta una norma DOC per salvare l'azienda. Peccato che invece l'azienda abbia ampiamente dichiarato che tali misure sono insufficienti e che il tavolo convocato con il Presidente del Consiglio Conte, il ministro Patuanelli, si sia concluso con un nulla di fatto, con i lavoratori che ad oggi hanno solo una certezza. Il primo novembre l'azienda chiude. Vede, Presidente, in fondo la cosa non mi stupisce. Cosa ci si può aspettare da un Governo che tra le mille idee ha proposto di tassare le stime aziendali, non considerando che, a parte quella del titolare, le altre vengono usate dai commerciali, dai responsabili degli acquisti, dai manager in generale, dagli addetti agli interventi di garanzia e tanti altri. Tutta gente alla quale non si può chiedere di usare il proprio cellulare personale per motivi di lavoro. Ma probabilmente nella maggioranza pochi sanno cosa vuol dire il termine lavoro. Perché questo Governo sembra essere cieco di fronte ai cambiamenti avvenuti nel mondo produttivo ed economico. Perché, colleghi, i governi hanno una sola possibilità, creare le giuste condizioni perché un'impresa nel nostro Paese funzioni e continui a creare lavoro. Voi lo state facendo? Non credo. Energia elettrica molto costosa, burocrazia pesante, penalizzazione fiscale, che questo Governo continua ad aggiungere giorno dopo giorno, volendo scaricare sulle imprese anche i costi camerali. Una follia pura. E allora, cari colleghi, dovresti farvi un esame di coscienza e chiedervi se le crisi aziendali, che tanto dite di voler risolvere, non siano in realtà non solo conseguenza di possibili errori aziendali, ma anche vostre scelte scellerate, che creano condizioni operative non sostenibili. Ma se volete parliamo dell'ILVA, grande cavallo di battaglia del Ministro Di Maio. Ditelo, colleghi dei Cinque Stelle, che fine avete fatto fare all'articolo sull'ILVA? Abrogato. Sapete, cari cittadini, cosa vuol dire? Che le priorità non siete più voi, non è più l'ILVA, non sono più i lavoratori, ma sono solo le vostre poltrone. E per questo un ringraziamento particolare va all'ex Ministro che io non chiamerei Ministro del Sud, ma Ministro anti-Sud Lezzi. Perché con l'abrogazione dell'articolo 14 questo Governo fa solo un gran piacere a Mittal, che dopo essersi liberato delle proprietà a Piombino, ora avrà in mano la migliore giustificazione possibile per liberarsi anche dell'ILVA e far uscire definitivamente il nostro Paese dal mercato acciaio, regalando la produzione ai turchi e noi non avremo mai soldi per le bonifiche, per il risanamento dell'aria, per cui, signori, ricordiamocelo, avremo un altro caso Bagnoli. E lo avete voluto voi. Il Governo precedente stava lavorando per aiutare le imprese tutte, i piccoli artigiani, la piccola media impresa, il tessuto economico su cui si basa il nostro Paese. Voi a cosa state pensando? Siete già per caso concentrati alla prossima grande crisi aziendale che arriverà col decreto fiscale? Perché parliamo di tasse. Prima un inciso. Vorrei ricordare anche all'On. Arettina Boschi che domenica la Leopolda ha dichiarato il PD e il Partito delle Tasse. Onorevole Boschi, ma a sostenere questo Governo c'è anche Italia Viva, c'è anche lei, ci siete tutti voi. Vi siete riempiti la bocca di ambiente, ma nella riforma verrà penalizzato chi in tempi non sospetti aveva investito in energie rinnovabili. Ci saranno introiti per lo Stato per circa 123 milioni di euro. Tassa sulla plastica che rischia di penalizzare le nostre aziende. Introito per lo Stato pare un miliardo per il 2020 e 2 miliardi per il 2021. Tassa sulle bevande, 10 euro e tolitro. Introito per lo Stato 200 milioni di euro. Adeguamento parametri che andranno a colpire proprio le partite IVA. È previsto un introito per lo Stato di 3 miliardi per il 2020. E infine, nuove tasse sulla casa. Aumento dell'accedolare secca sugli affitti e aumento dell'imposta catastale. Niente, vada come vada, state creando solo il Paese delle tasse. Però una curiosità me la dovete levare. Ma tasserete anche le scatolette di tonno? Concluda, senatrice Dinizini. Grazie. Sì, ora concludo. Sia chiaro, cari colleghi, che noi non vogliamo in alcun modo essere complici di chi lascia per strada 25 mila famiglie, di chi tutela con il reddito di cittadinanza brigatisti ed elinquenti, con chi non ascolta i lavoratori tradendoli in nome di altri interessi. La nostra intenzione iniziale era quella di astensione. Abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo nelle commissioni che ci è stato riconosciuto anche dai colleghi della maggioranza. Ma dopo la marcia indietro sui riders e ILVA il gruppo Lega Salvini Premier Stats voterà convitamente no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.